Amici di MarciGames, bentornati in questo nuovo video su MarciGames! Bentornati in questo nuovo video su MarciGames! Allora ragazzi, due cose fondamentali prima di iniziare il video. Se volete potete acquistare Golf with your friends dal mio link in descrizione, mi raccomando. Anche Nico, tu che compri un sacco di giochi, link in descrizione. Che c'è il mio profilo di Instant Gaming, raga, siamo tornati a collaborare con Instant Gaming grandi, raga. Questo è tutto grazie a voi, no, a parte gli scherzi. Se volete provarlo, ci sono tutte le mappe qua sotto, insomma, fate tutto. E inoltre è uscito il mio libro un po' di mesi fa, quindi nel caso compratelo. Sapete cosa mi han detto, raga? Cosa ti hanno detto? Che non ho spammato bene il mio libro. Effettivamente ci ho pensato, è vera sta cosa. Molti non sanno che io ho scritto un libro. Lo spaviamo adesso! Va bene, però intanto vi spiego una cosa. 11 tiri massimi, ma se sbagliate, più 50. Easy, easy, easy. Sono già qua con... no, tre colpi, tre colpi forse. Anch'io penso tre colpi, raga. Eh, non è molto semplice qui, eh. Te lo dico, te lo comunico. No, ca... No, eh, va bene. Cavolo, volevo dire cavolo. Così va meglio. Non c'è neanche la buca riscata. Ma non c'è la buca, si è chiusa. Ma dai, raga. Si è chiusa la buca. Capperì, non voglio fare più 50 subito. Fatto in tre, par. Ok, cinque. Dai, 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 ci piace. Un e mezzo. Continua ad uscire, raga. Continua ad uscire. Tanti colpi per gli ucchi. 1,6, va bene. Ma non è vero. Io ho fatto di più. Ma io ho fatto di più. Meno di due, ma più di 1,6. Ai nodi, vi c'entra la buca, Marci. Omarone, Omarone. E lì, 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 lì. C'ha fatto, dai, facile. Omarone, che sfiga. Ah, c'è dentro. Sette colpi. Un caffè, un bicchiere di caffè per Marci. Ok, questo Marci con l'ire inglese. Buono, buono, perché loro non hanno comprato il mio libro Ok, ecco che dobbiamo fare C'è un canesse, non è vero C'è una freccia che dica qualcosa Perché quella freccia Io prendo il gelato Io prendo la freccia in faccia, non è vero Ok, e da qui dove bisogna andare? Non penso che sia giusto, raga Ma dai, ma sei serio Io ho però sbagliato, penso E' un po' da qui che devo fare? Che devo fare, raga? Oh mio Dio No, io chiedo scuso, non ho capito Ragazzi, ho un problema Ma mi fa ripartire la mappa Oh, ho fatto Buchi In quattro Ma qual è la buca? Ma che cacchio ne so Entro nel forno, entro nel forno Nico Ma come entro nel forno? Allora, no, aspetta Devi fare, prima andare in, vai piano Qui fai due e mezzo Prima al secondo stage Esatto, fai due e mezzo qua, ok E da qui devi fare tipo quasi tre A quello è un forno? Mazzo, c'è una fantasia comunque Troppo Troppo, troppo, troppo Io ti ho dato un po' meno di tre Dai, forza, è facile Nico sente ma non ascolta Ma non entra Nico, è facilissimo Perché devi andare un po' più forte ancora E allora, io faccio tre Eccolo qua No, ha beccato il palo Nico, dai, è facile Nico Ok Buono Ce l'abbiamo fatto In quanto? Otto Otto, dai, ora siamo quasi lì, Nico Ah no, sei più avanti di me Attenzione E qua che devo fare? Ah, ci siamo cotti Ah no, siamo dentro Ah, è una storia, hai capito? È una storia, è vero Siamo dentro il forno Ok Ma anche voi siete tipo storti? Sì Mi sa che bisogna andare indietro, raga Io ho appena sbagliato No, vedi qua Vada Fatto No, non ci arrivo Torna la pizza Ma come? Io l'ho fatto Ah, diventate più in pace Come cavolo hai fatto? No, cavolo Non ho ben capito Devo rispondere Me l'ha presa, raga Oddio, ti prego Ma come hai fatto? A me non me l'ha fatto fare Penso che tu devo fare molto velocemente Con lo scassone Di Vico ha fatto punto Vedi che a me non me lo fa fare Eh, ma vai più verso il centro Così, al massimo verso il centro Ok, hai preso il rimbalzo un po' male Dai, raga, che sfortuna Aspetta, faccio una cosa Faccio Mi metto Mi metto in parte Mi metto leggermente più avanti Poi da qui faccio al massimo Fatto in sei Ma ho fatto a farlo a lato Non ho capito io Vabbè, vai di lato E tu entra nel costo di lato E ti metti lì Troppo però No, forse ci sei Per il fuoco forse si farà spawnare Eh, già Ok Così, perfetto Tu prego Ci sei, ci sei Tu prego Tu prego Tu volo centrale Ok Sono undici, raga Sono undici Sono undici Ce l'ho, raga Cafferino, Marci Caffine Anche quella che sto bevendo Allora, qui Allora, io mi sa che me inizio a farmene un po' con calma Sapete? Ma vai dritto Ma chi va piano non va da nessuna parte Ma se sei tornato indietro Questo è un altro discorso Ma cosa ho colpito? Ma c'è un muro invisibile Ma porca miseria Ma dove ve lo fai, ti muro invisibile? Ma c'è Guarda che ci siamo beccati io e te, Nico Ah, ecco cosa era il muro Raga, sono uscito Sono uscito Sono uscito Cosa è successo? Ma ci sei Hulk? È difficilissimo Ah, ma ecco qua C'è la conchetta qua Hai capito te? Ma loco l'ha fatto? Adesso sono appena arrivato Ehi, ciao Ciao Doppio Bugu Bugu? Io mi sa che lo faccio in sette Sette colpi Tera più del pa Quindi devi fare al massimo Loco Esatto Ci sei, ci sei In realtà non doveva andare proprio così Ah no, pensavo che avessi preso l'angolo Scusami Dai, ci sei Hai capito ormai come farlo? L'hai capito? L'hai capito? Dai, in fondo devi farlo più forte, è vero? Eh, devi essere tipo 12 Eccolo qua Noi 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 Ha fatto noe Noi, noi, noi Oh, siamo in Cine Quella è sette, eh Oh mio Dio Non è ultimo Ecco a posto Stai zitto Ho già sbagliato tutto Quindi siamo a posto Vieni che mi ha fatto giusto Ma non è vero Ma se stai appena tornati indietro C'è una scala mobile Scala mobile? È una scala normale Però è matto Che si sta a dire? Sono dentro la scala Oddio, anch'io sono in scalato Ah, loco, si è bugato Presette i colpi Ok Ecco l'umino Da qui? Forse l'umino No, no, no Continua È che è lunga questa, eh Eh, chi sta qua? È lunga, eh Infatti Eh, dove sta la Bungers? È nel cesso No, quella è un'altra mappa La stiamo facendo la pizza È nel cesso Siamo nel cesso È ragione l'occhio È davvero un cesso Eh, io sto sempre ragione io Nove Oh, ma ho beccato la tavoletta esterna Ma se faccio così ci entro? No Quanto avete fatto voi? Spero nove Lokis, quanto hai fatto? Forse nove, vediamo Ho fatto dieci, scherzavo Anch'io penso di aver fatto Porca miseria, non ce la faccio Vede? Voi vede come ce la faccio Nico, Nico, Nico Nico con calma Vatto in dieci, vatto in dieci È Nico più cinquanta Ma non ci entra Nico più cinquanta Nico più cinquanta Non ci credo Nico più cinquanta Sìììì Ma perché godi delle disgrazie altrui, scusami? Che ho un bambino di... Io sinceramente non ho parole Non posso sbagliare, Nico Ti ricordi la buca di prima, no? Non ti ricordi Oh, ci siamo, Loco Siamo da te Siamo da un tartaruga ninja io Sì, sì Direi più un ratto Però, vabbè Più o meno siamo lì lo stesso habitat Stiamo insieme, Nico Abitiamo nello stesso posto Chi mi ha toccato? Marci Ma cosa centro io, raga? Ma dai! Ma dai! Vabbè, ho mancato il palo Ma zanza Zanza Ma se si... Raga, non si può beccare l'acqua proprio? Eh no Oh, capo Facile, guarda Non è facile Scherzavo Devi farla... Oh, madonna Ma alla fine c'è da fare un rimbalzo bruttissimo Non so se avessi visto Bloccati, bravo Chi mi ha beccato, raga? Forse io, ma non ti ho vissero Stai per farla... Sì La stavo... La stavo per farla molto sporca Ma come si fa qua? Io non ho capito Ma come dovrei farla? Dai, continuo a farmi responare Faccio più 50 Raga, è difficilissimo Ma io sono tornato indietro Sono nove colpi, io Ma come si fa? Scusa... Ah, raga È difficilissimo Nico, guarda... Nico, c'è la freccia Eh, lo so Devi fare questo rimbalzo Ma è difficilissimo Vabbè Sei mi s***o Comunque È una vitaccia Vabbè, più 50 Direi che comunque Ci sta, no? Chill, direi chill Ah, ma siamo di nuovo qua Talla dal lato Io penso che ragazzi Me la farò molto nel chilling Questa cosa Eh, chill Ma sai che essere dal lato opposto Significa che... Ma che c... Che dobbiamo fare la stessa roba di prima? Ma se stavolta si fa... Marcia, smetti colpirmi Noo Arcinet! No, 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 no Sono bloccato Mi sono sbloccato No, raga Bisogna andare solo lì dentro, mi so Riuscire? Sì, sì Ho evitato Scusa, eh Un attimo che... L'ho evitato anch'io L'ho evitato la manovra qua Di far piano È tosto È veramente tosto Tosto, tosto, tosto Va perché routa? Entra il primo Io non ho sbagliato 7 A caso Sei Ma dico due qualcosa Ho fatto 6 ma dovete fare un 50 in più perché si dai non dico no ci sono più buche da sette niente avete vinto ma che guffo siamo usciti dal cesso vabbè la novità per te si opera e non fare spawnare l'occhio infatti meno male era un livello di city in molto esagerato eccoci qua bar potevo colpirla perché mi ha fatto risponare non lo so la cosa per fare con quel modo citoso è e non posso più colpirla io ad abbandonare si ti fa rispondere dopo l'occhio veloce veloce niente ci sono ci sono unico entrato io sono già entrato come fai una donna di cosa ho fatto cosa fatto nico 30 50 di peralità tranquilla il mio caffè buono buono come non mi piace il caffè no è proprio un doppio cappuccino un caffè all'occhio buono buono allora qua bisogna andare qua perché di qua tu fai di qua vai dritto lanciati sono trovato all'inizio mi vorrei capire dove è la buca ah la buca è qua sotto tipo ma faccio dai dov'è la buca? e se io faccio tipo così qua mi blocca? ah è lì la buca così devo fare tipo esatto ma sì le cose si fanno con calma raga dai l'ho fatta abbastanza bene no io no ok parra! parra! porro! porro! e nico dov'è? tre pluputi per nico no sette colpi e bassa non ho i pluputi è un triple pluputi no mamma mia ragazzi quattro colpi su cinque di loco yeah vai di qua ah guarda non ha funzionato ah è tipo una mega rampa devi fare warride 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 dobbiamo andare qua o marron non so come uscirne mi sa che ti ho colpito no fare il meh on the table c'è scritto on the top make it drop birdie tre ah proprio tutto il tavolo? eh sì ah easy dai loco puoi farlo beccando l'angolo e invece no non ci posso credere non ci posso credere non ci posso credere non puoi deser ah ci mi ha recuperato eh sì brutta storia il recupero e fatele sto 50 e dai dov'è la buca qua? è una roba luminosa sì penso di sì è schifo il vero eh porca miseria ho sbagliato ma perché l'ammazza ribalza? ammazza no a Nico sono andato in buca sono andato in buca? sì ok nell'altra buca però quella del bigardo ah questa è quella giusta chiaro 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 hai voluto farla in due potevo farla bacia quanto sei? tre hai vinto bacia ha vinto ma ancora mancano un sacco di buca è una gelatina è un sasso e qui non puoi sbagliare la logo quindi dai no se la sbagliavi se la sbagliavi fuori è un clown eh clown di quartiere no Nico ti ha messo nella minuto del circo oggi quindi sei tu il clown giusto allora che se non dico fa una cosa e legge sì decido io l'intento era quello in realtà andiamo dove siamo ok perché ridi molto all'aspetto ed ok ok non beccati devi essere drittissimo per farla eh sì ma qui dove dimmi che non mi conta il respawn ok Marci perché eri in mezzo alle p***e ma che cosa vuoi della mia vita ma stai zitto sei sempre in mezzo guarda sempre in mezzo oh ho fatto un sei porca miseria non ci posso credere non ci voglio proprio credere io non ci voglio credere potevate dirmi che c'era un dirupo comunque andavo più piano in caso non l'ho visto no vabbè non è possibile raga dai ma dai ma raga ma ci fa 4 ma 4 e nico più di 61 quelli 61 lì è eh oh che devo fare tanto ma dove mai è massimo non è 4 anche secondo me non è 4 infatti non era il massimo qui invece è massimo easy non è massimo non è massimo ciao mird iii birdiii iiii lokiis quanto hai fatto parr oh ho fatto parr parr dai sei sempre 3 in vantaggio quindi non è che dici stai vincendo te è tutto in vantaggio ah è vero ci sei anch'io qui non si può cittare in qualche modo dall'altra parte io la provo raga secondo me non è fattibile ma io te la trasto dovete cittare mamma mia ma da marci l'ha fatto what a legend l'ha fatto no infatti non vedevo poi ho detto magari sto laggando ma dai ma che vita comunque ma la smetti tu quant'hai fatto? per curiosità in teoria sono 5 se non sbaglio questo vabbè io sono 8 e non sono ancora arrivato 5 così per 8 come pari oh l'ho recuperato ma perché io ho voluto provare a fare quella cosa gag totale che tu non hai voluto provare senza senza pa è una bella cosa raga non penso che esatto c'è un gatto qua se volete non ho capito che bisogna fare io non riesco a fare il primo salto come mai? secondo me bisogna entrare dentro il super mario bros lo sai ma questo mario bros l'ha vista ah lì si è lì perché lui è entrato ma chi fa queste boche ma chi fa queste boche fanno un po' cagare posso dirlo? no per davvero comunque questa mappa è una delle quotate più difficili di tutto 7.5 su 10 è una delle più quotate green box uguale goal ecco la destra è quella la difficoltà ecco la destra ah siamo dentro il super mario è vero tutti abbiamo provato nessuno è riuscito se non loco è riuscito penso in one all in one tutti con me all in one vedi che hai avuto una carenza di attenzione hai avuto una infianza difficile si vede si vede che comunque si è cresciuto male comunque avrei avuto avrei avuto qualche mancanza probabilmente oggi ho scritto tu vuoi essere mio amico io ho risposto no vabbè ma nessuno penso voglia di essere mio amico quindi porca miseria boccata la scatola marci ma perché partiamo insieme e mi butti fuori ma raga ma io questa non la farò mai ve lo dico ma bisogna andare in fondo raga ah ci sono più buche si può andare anche in fondo però questa mi sembra più fattibile sinceramente non so quale stai dicendo è la prima quella con i tubi e come ho fatto così no niente ce l'ho fatta ah sto gioco l'odio ma che cavolo è successo qui ce n'è una ma c'è il bonus psicologi per sto gioco non ho capito se ce n'è una qui da qualche parte ah si ogni cosa che lampeggia è una buca ma perché sto rimbalzando fuori dal mondo dai parca puzzola io non penso di riuscirci raga purtroppo io faccio più 57 oddì non è vero non è vero non è vero se indico se indico vince se indico vince ma non è cosa vinco devo far buca ma a quanto pare sto gioco mi odia oh pardon marci perché se eh ho sbagliato loco porca miseria l'ultimo colpo che avevo che potevo fare dieci dieci oddio oddio ho fatto apposta a levarti era tutto calcolato era tutto calcolato cosa ha detto prima loco più 61 più 65 no 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 tanto sicuro perdo adesso quindi non è che dieci non è l'ultima no non è l'ultima oh maronna come prima via c'è una stella lì sotto vai qua andrà amico ok e va quel paese va ma non era una mappa della pizza come gli siamo finiti sì non riesco un attimino a comprendere la situazione bisogna far così oh grazie eccoci qua ma raga ma perché sono nato storto io ho beccato la bandierina ma non ha funzionato oh boogie oh che ha vinto la gara oh oh proprio io ah no ho vinto io loco ho vinto io beh comunque dominata dominata dall'inizio alla fine ciao a tutti comprate il mio libro link in descrizione anche il golf ovviamente ciao